amici youtube pepino audace allora ragazzi voglio fare oggi un'introduzione speciale per un calciatore speciale eccola la sua maglietta per luca russo ragazzi luca russo un giocatore che ha compiuto più di 200 presenze con 250 se non sbaglio 250 presenze con la maglia o 350 adesso non so la precisione comunque comunque ragazzi nella storia questo giocatore parlare di lui è veramente importante ragazzi oggi faccio quindi un'introduzione del video per parlare proprio di luca russo per quello che ha fatto per quello che continua a dare a questa squadra uno giocatore importantissimo ieri ha preso la traversa e poi ne parleremo nell'analizzare la partita di ieri ma un giocatore veramente continua a stupire questo cerignola e sicuramente quest'anno raffaele gli sta dando la giusta titolarità perché sono merita ragazzi perché un ragazzo eccezionale è un giocatore eccezionale mi ha autografato la maglietta personalmente è andato personalmente ad autografarmela nel negozio mio zio è un ragazzo veramente eccezionale ragazzi c'è ancora la firma proprio qua con affetto a pepi proprio luca russo questo è l'anno scorso ragazzi e ne prenderò anche una quest'anno sicuramente è proprio di luca russo vedremo comunque ragazzi parliamo della partita ieri contro l'avellino andando a realizzare anche tatticamente il cerignola una partita che il cerignola ha interpretato molto bene ma che sicuramente come ho detto anche nel post partita ieri c'è il rammarico per non averla vinta quella traversa quel palo di luca e ragazzi sicuramente il cerignola è le 3 4 parate che ha fatto gli annarilli una su cupone al 29esimo e poi anche nel secondo tempo ragazzi ieri non abbiamo avuto la forza di poterla chiudere questa partita si poteva fare secondo me poi è chiaro il cerignola ha dato tutto e l'ha dato in 94 95 96 minuti e non era facile perché era un avellino chiusa soprattutto nel secondo tempo poi l'avellino le sue occasioni le avute comunque attenzione perché l'avellino rischia di perdere mica la pazienza e sarebbe già pronto capuano quindi vedremo poi l'avvicinamento anche sull'avellino comunque ragazzi a livello tattico posso dire che è lo stesso cerignola che ha giocato come le altre due partite con paulucci che va comunque ad aiutare luca russo e nel secondo tempo andato aiutare tentardini e poi uscito ha avuto problema martinelli quindi subentrato voi capomaggio dietro e con bianchini con regista insieme a toscone e paulucci e ragazzi io avrei buttato zaccruggero ieri in questo momento zaccruggero non è ancora al cento per cento avrei provato a mettere parigini però ragazzi bisogna ancora dargli tempo andiamo con le pagelle partendo da saracco voto 7 buona la partita di umbertone e si è distinto comunque nelle palle gol che ha avuto l'avellino è stato anche bravo nelle uscite insomma saracco è in ripresa rispetto anche alla partita di biella dove ha preso tre gol ma per due partite sei a clean sheet possiamo difesa con santiago lisentino voto 7 più grande partita gran primo tempo si è distinto e poi ragazzi il salvataggio su raffaele russo nel secondo tempo che poteva sicuramente entrare quel pallone bravo santiago il solito santiago lisentino e poi andiamo da gonnelli voto 7 anche lui la difesa sola del cerniola è impenetrabile lo è stata per anche tre partite diciamo è un punto forte a favore proprio dei o fantini Martinelli voto 6 è stato l'infortunio che l'ha fregato ma sicuramente sarà titolare nella partita di nella partita di coppa cioè potrebbe giocare già la prossima partita contro il giugliano siamo al centro campo luca russo e ne abbiamo parlato di luca russo abbiamo fatto anche l'introduzione voto 8 grande partita di luca russo poteva fare il gol cineteca nel giorno delle presenze e invece quel palo ha detto di no ma grandissima partita di luca russo tentardini voto 6 ragazzi tentardini secondo me può fare meglio ma ragazzi tentardini in questo momento se torna peppe coccia non viene favorito anche perché un luca russo non lo puoi togliere paolucci voto 7 sicuramente le prime due partite è stato protagonista e anche ieri ha fatto un gran primo tempo il secondo tempo è stato un po più basso probabilmente anche il cambio di modulo ma sicuramente era molto più basso però ragazzi ha provato anche il tiro da fuori buona partita di paolucci tascone voto 6 e mezzo ragazzi tascone ieri non ha giocato come il solito mattia tascone ma comunque l'avellino aveva i giocatori importanti rocca su nas insomma non era facile passiamo a poi c'è senza mazza 6 allora quindi paolucci ho detti tutti passiamo all'attacco salvemi salvemini voto 7 buona partita di galo possiamo attacco salvemini voto 6 più è il solito salvemini che cerca sicuramente di far da torre su cupone sulla squadra fa salire la squadra quanto può e comunque la sua partita è buona cupone voto 7 poteva fare di più si è mangiato qualche gol gli annarilli gli ha detto di no e comunque ragazzi cupone ieri mi aspettavo di più da luigi cupone peccato 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 poi sono entrati gli altri entrato bianchini 7 poi sono entrati gli altri senza mazza voto 6 più mister raffaele voto 7 e mezzo do 7 e mezzo perché comunque il mister oramai credo che se la voglia giocare con tutti e a livello di atteggiamento il cegnola è migliorato tantissimo è il cegnola che ci piace però ragazzi a volte in queste partite conta anche buttarla dentro e se non la butti dentro è un problema però però c'è sempre un però finisco qua le pagelle ragazzi abbiamo detto tutto adesso vado a registrare un po di formula 1 seguite formula 1 c'è anche fifa con il parma quindi ci vediamo bella a tutti e pepino audace e rimanete connessi iscrivetevi al canale